45 delle ore 19 e 45 per Napoli Centrale è in partenza dal binario 8. Non sono previste fermate e intermedi. I livelli executive business sono in testa al treno su questo treno e disponibile il servizio di ristorazione. Per giurare l'accesso al treno invitiamo viaggiatori a disporsi lungo il danciapiede in base alla posizione della carrozza relativa a livello di servizio acquistato. Per giurare l'accesso al treno di ristorazione. Per giurare l'accesso.